Qui ci sono i vertici di ASEA, come sono i rapporti tra Publiacqua, ASEA, Comune di Firenze? Sono rapporti di collaborazione e di condivisione di strategie così come deve essere per una società che ha una maggioranza di soci pubblici e nella quale Publiacqua, il Comune di Firenze, ha il ruolo di socio pubblico primario. Quindi su questo devo dire che abbiamo condiviso ogni passaggio degli interventi che hanno riguardato il ripristino di questo sito. Aggiungo, e poi davvero lascio la parola al Ministro Delegato, aggiungo che finito questo lavoro del Lungarno Torrigiani, noi l'anno prossimo faremo anche la seconda parte dei lavori che interessano tutto il tratto di Via De Bardi che va da Lungarno Torrigiani fino a Ponte Vecchio con il ripristino delle tubature e il manto stradale, così abbiamo anche meno buche, e il rifascimento di Via Guicciardini non più in asfalto ma in pietra. Quindi ci sarà una complessiva riqualificazione di tutta quest'area. Finita questa campagna di lavori da questo lato, cominceremo poi i lavori sul Lungarno Acciaioli, come sapete anche lì in pietra. Quindi credo che nell'arco di questo mandato noi faremo, come abbiamo dimostrato fino ad oggi, un lavoro di restyling, quindi anche migliorativo dal punto di vista architettonico, di tutta la parte centrale dei Lungarni, di qua e di là del Ponte Vecchio. Benissimo, grazie.